IOTMED Festival qui da Cosmo di Russo con il proprietario si, il proprietario che produce queste uline di Gaeta le uline sono di Gaeta e non di Idrid abbiamo un uline di Gaeta un uline di Gaeta abbiamo un uline di Gaeta tutta la produzione quindi, no, così ma colpita ma colpita anche se poi in realtà la differenza è minima nel senso che comunque le distanze che ci separa si, chiaro, quindi il prodotto è sempre... molto simile per forza, quindi la qualità è assai lì assolutamente anche se voi conoscete però Gaeta, Idrid, questa cosa qui allora, Idrid è veniva al Ducada di Gaeta assolutamente assolutamente poi la grandezza del porto di Gaeta deriva da quella quindi, siete soddisfatti dell'andamento commerciale dell'aspetto attuale? e come va la cosa attuale con questa cosa? ma noi siamo un'azienda giovane di conseguenza la crisi per noi non è un fattore che riusciamo a valutare nel senso che essendo ora in fase di start up non abbiamo l'influsso della crisi perché non riusciamo a fare una valutazione prima e dopo il cuoco che è venuto il tuo chef famoso inglese che è venuto si come si è trovato? che ha trovato di particolare? si è sintonizzato con voi? con altri produttori? si si con voi? con un olime di Gaeta la T.L. di Gaeta e un produttore di coppa si quindi ha dato luogo a questi piatti tipici qua nel golfo, nel porto si continua questa collaborazione? si si quindi a distanza di a distanza di pari mesi ci hanno mandato il DVD il DVD ma mandate il vostro lotto a lui come avete stato in un rapporto commerciale? ancora no ogni tanto vi verrà speriamo di che viene soprattutto la truppo che lo ha assistito quindi rimasto contento di tutto la vostra accoglienza la bellezza unica un posto magico tutta la tua prima stracopita prima io dico che io sono di fondo purtroppo quando mi devo presentare dove vado e mi dico che sono di fondo non mi conosco e devo dire che sono vicino a Gaeta vicino a Gaeta no ogni volta da tutta la parte che si sta il straniero che dice io io vivo in fondo io nio a Gaeta questa cosa va di cos'è? soltanto che stando a Gaeta rimango un po' deluso no stando a Gaeta ma in fondo rimango un po' deluso un po' deluso Gaeta la vorrei un po' più più forte vorrei un grande forte 400 anni fa viaggio nel mondo eh siamo rimasti un quale raro un po' chiuso ma io sto chiuso una colpita io vedo che ci sono un'azietta molto chiusa commercialmente da tutti i artisti anzi quasi mirano a noi a fondo è completamente la 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 adesso è la fiera, se vi piace questo, questo è un grande concetto di Ultimate Festival il terzo anno che partecipiamo si è applicato qui con un bel concetto questo qua i giovani, tra virgolese, i giovani arriva verso forse 40-50 anni i giovani, oramai i giovani i giovani vanno fuori quindi non c'è un tessuto giovanile che rimane iniziativo sul territorio di conseguenza non c'è un rinnovamento pochi negozi, credo se vengono a comprare fondi, raccomandante, non c'è mancanza di... e questo è quello, com'è? i pubb, i locali ma forse c'è troppo ordine, perché i giovani notturni e croce edilizia, l'estate ci porta un grande vantaggio, ma ci limitano e perché adesso non hanno quando Gaeta, io sono a Napoli, aperto i casetti e continuiamo a Gaeta cioè per loro venite qua è Napoli stessa con Gaeta un'unica